Un giorno, mentre aspettavo la LAM, c'era un tizio accanto a me, che leggeva il programma scritto da giovani democratici con la federazione degli studenti. Pronto? Sì, ascolta, qui c'è una sosa canza in questo programma e la voglio mettere anche nel mio. Eh, dopo te lo faccio vedere, sì sì sì. Allora mi raccomando, che ci sia nel programma. Ciao. Fai anche tu, come Matteo Biffoni, per una... O che ti è? Fai anche tu, come Matteo Biffoni, per una... Sì. Grazie a tutti.